Oggi una vostra segnalazione ci porta nella zona di Taranto II, precisamente i giardini pubblici intitolati a Delia e gli annelli. La primavera qui è protagonista, con la natura che esplode, il verde è curato puntualmente, ci spiegano i residenti. A destare preoccupazione però sono alcuni tombini che rimangono aperti, cerchiamo di capire con loro da quanto tempo. Sì, quasi da sempre. Lì laggiù c'è un altro, è aperto. Non è solo questo. Lì il coperchio è proprio rotto, rotto, rotto. Qui giocano i bambini, se ci cade qualcuno? Bravo, chi è responsabile? Avete provato a segnalare la situazione al comune? Ho provato a chiamare, così non risponde mai nessuno. Adesso, visto che siamo sotto le elezioni, proviamo anche questo, vediamo se funziona. Ci sono dei tombini vuoti, il recinto che non viene, è semiabbandonato. Soltanto il fatto del verde viene curato. Anche mentre la nostra truppa è sul posto, tantissimi sono i bambini che afforrano il parco, dunque il rischio è concreto. Potrebbe bastare una distrazione, ad esempio mentre si gioca a pallone, per finirci dentro e farsi del male. Il parco risale ai primi anni del 2000, quando è stato costruito insieme agli stabili vicini. E' poi stato ceduto all'amministrazione comunale che attualmente lo gestisce e dalla quale si attendono adesso delle risposte. Grazie. Grazie. Grazie.